Un'industria veramente innovativa che nasce totalmente fuori dal sistema della proprietà intellettuale, non dico contro ma totalmente fuori, senza l'ausilio dei brevetti, che una volta cresciuta e maturata le imprese dominanti vanno alla ricerca del potere imbrevettare, vanno alla ricerca della protezione monopolistica, vanno alla ricerca dell'estensione dell'intellectuale proprio del nostro settore. Allora il settore è una costante, questo è il secondo fatto, è una costante che noi rileviamo in quel vecchio libro e che è ancora vera oggi, della...